Si è svolto lo scorso fine settimana all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca un convegno dal titolo Il paziente cardiopatico e le sue comorbità, teorie pratiche sulle complicanze che possono insorgere a chi soffre di problemi di cuore. Due giornate di studio ed approfondimento rivolto ai medici di base specialisti del settore, organizzate dal comune di Sciacca, dall'Aspa di Agrigento, dall'Ions Club e dall'ANCE, Associazione Nazionale Cardiologi Exospedalieri. È importante rivolgersi anche alla gente ed insistere sulla prevenzione, ha sottolineato il presidente nazionale dell'ANCE, Antonio Vittorio Panno, associazione che sabato scorso ha consegnato all'Ions Club Sciacca Host un elettrocardiografo per effettuare degli screening al cuore gratuiti a ragazze sportivi. Quali sono le finalità di questo convegno? Questo convegno è un convegno rivolto ai medici che lavorano sul territorio, sia cardiologi sia medici di medicina generale, che affronta una problematica particolarmente interessante che è quella delle comorbidità. Oggi il paziente che si presenta in un ambulatorio di cardiologia non ha solo la malattia cardiologica, ma si presenta soprattutto, considerato l'imbecchiamento che aumenta della popolazione, con diverse malattie, è anche un broncopato, è anche un diabetico, ha un'insufficienza renale, può avere anche delle malattie reumatologiche, per cui il lavoro del cardiologo è quello di sapere inserire il proprio intervento all'interno di queste comorbidità, di altre malattie che colpiscono il paziente. Lei è il presidente nazionale dell'ANCE, di cosa si occupa l'associazione che rappresenta? Allora, io sono il presidente nazionale, l'associazione si è sempre occupata, è la prima tra l'altro a essere nata in Italia come cardiologia del territorio, che aggiornava appunto i cardiologi che lavoravano sul territorio, quindi fuori dall'università e fuori dagli ospedali, che ormai celebrerà il prossimo anno della sua quarantesimo anno di fondazione, e che in vista proprio di questa scadenza abbiamo deciso anche di dare un diverso assetto alla società. La società prevalentemente scientifica e quindi curava l'aggiornamento dei cardiologi e anche dei medici con particolare propensione per la cardiologia, anche se sono specialisti in cardiologia, guarderà molto, diventiamo l'associazione ONLUS, abbiamo già fatto la domanda, avremo la risposta penso tra otto giorni da parte del ministerio, ma riteniamo di avere le carte in regola per fare questo, saremo una società che lavorerà anche molto sul territorio, sul sociale, quindi fare crescere l'educazione dei cittadini, partecipare con iniziative che possono far crescere il livello di salute dei cittadini stessi e quindi coinvolgerli nella gestione assieme al cardiologo e al suo medico del proprio stato di salute. Per rivolgersi quindi non soltanto ai medici ma anche alla popolazione in maniera diretta? Essenzialmente questo è il motivo per cui noi stiamo diventati ONLUS, stiamo per diventare ONLUS perché oggi è importante per l'evoluzione proprio sociale, per l'evoluzione della cardiologia che si esca fuori un po' dal proprio ristretto campo dell'aggiornamento solo e si cerchi di sollecitare i cittadini per innalzare appunto il livello di salute.